Qualche cenno sul calciomercato e in particolare per il Pescara perché è ormai imminente dato per sicuro il ritorno del mediano Giuseppe Rizzo che era già approdato a Pescara nel 2013, è attualmente legato alla Triestina fino al 2022 ma è intenzionato proprio a tornare a Pescara. Il centrocampista siciliano ha frequentato per così dire diverse squadre, attualmente come dicevo è nella Triestina. Si parla per lui di un contratto biennale mentre su Derisio non ci sono ancora sviluppi, è noto che in attacco possa servire un esterno mancino e anche una punta centrale con caratteristiche diverse e complementari rispetto a Ferrari. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime ore e naturalmente ve le daremo nella Tg della Sera.